Marco, Marco, quest'oggi mi ha dato una fascetta, però Marco è il capitano ufficiale della squadra Gandolfi! Gandolfi! Vieni a ritirare la Coppa del Dono? Tra due e due e due e due Marco! Marco! Gandolfi! Dai, sto schittuto! Thomas è il vice capitano! Vabbè, vice capitano... Thomas... Che... che... Sei arrivato? Secondi! Eh, tu sei la beneficenza, ma no, sei la vera del pubblico Marco! Vabbè, io la vado a portare Thomas! Grazie!